Se non erro abbiamo pochi netti, vero? Vabbè, quanti netti abbiamo? Sei, sei netti. Abbiamo sei netti per il momento. Su 29 soggetti, 30 soggetti. C'è, guarda, l'ha casata massima qua. Sì, beh, lei è. Brava, si ferma in maniera corretta. Sì, oramai è meglio che la voglia di togliere. Sì, oramai è meglio. Sì, ragazzi, che movimento di merda. Di merda. Buon pomeriggio per riuscire a tenere fermi gli anteriori. Radissima. Mamma, mamma, mamma.